Si completa un percorso nell'ambito sociale per a quel che riguarda il recupero di immobili confiscati alla criminalità o in totale disuso al comune di Pescara. Porta aperta stamani per la stampa di un appartamento in via modesto della porta 24 di proprietà del comune che da marzo sarà abitato da tre donne anziane, sole e in forte stato di bisogno. L'immobile è ristrutturato praticamente a costo zero grazie alla mano d'opera garantita da persone che percepiscono il reddito di cittadinanza mentre le finanze messe a disposizione saranno utilizzate totalmente in favore delle persone che verranno ad abitare in una casa ad un passo dal mare e dalla pineta da nonziana. Il comune già aveva un'attività del genere ma in quel caso pagava 850 euro di affitto al mese, in questo caso abbiamo quindi un risparmio perché questi immobili è di proprietà nostra, l'abbiamo ristrutturato e per l'appunto tre persone, tre anziani potranno, verranno a vivere qui. Logicamente si tratta, avranno proprio persone che hanno bisogno di aiuto, diciamo così, quindi avranno dei requisiti quali un i6 sotto 8 mila euro, non devono avere un supporto familiare quindi tra 8 persone veramente sole e che non hanno praticamente nessuno. E potranno venire qui in questo bell'appartamento ristrutturato da noi dalla parte del comune, anche pitturato da persone che percepivano il reddito di cittadinanza, quindi fatto anche in casa proprio al massimo risparmio, a due passi dal mare. Ti devo dire che siamo contenti perché quando andiamo a persone anziane che già abbiamo visto dove sono in questo appartamento vediamo che sono persone che hanno bisogno di tanto affetto, tanto calore e quindi siamo contenti di dare tranquillità a queste persone. In questa città abbiamo recuperato sette immobili confiscati alla criminalità organizzata che abbiamo messo a disposizione del settore sociale affinché li utilizzasse per le persone che avevano bisogno, che avevano titolo, che avevano diritto e soprattutto che meritavano di vivere in quegli alloggi perché volevano fare un percorso di recupero, persone che non avevano casa, che vivevano in mezzo alla strada e che invece attraverso queste operazioni hanno riconquistato la voglia di vivere ed è la cosa più bella.